E' interessante rendersi conto che i greci, gli egiziani e gli indiani avevano nozioni delle cellule secoli prima dell'invenzione del microscopio. La prima cosa è che chiunque, tutti quanti hanno il potenziale per essere un genio. La mente umana è molto più potente di un computer, di un super computer. Il suo potenziale non è ancora conosciuto, ma ogni volta che lo delimitiamo il cervello spacca questa delimitazione e si allarga sempre di più. Pertanto lo splendore è il potenziale per chiunque. Immaginiamo per alcuni momenti come potrebbe essere la nostra vita se potessimo avere accesso diciamo al 20% della capacità del nostro cervello. 100 miliardi di neuroni per ogni essere umano di cui sono attivati solo il 15%. Ci sono molti più collegamenti in un corpo umano che fra le stelle nella galassia. Noi possediamo una gigantesca rete di informazioni. Il nostro cervello ha miliardi e miliardi di neuroni, centinaia di miliardi di interconnessioni. È in grado di processare più di 2 milioni di bit di informazioni in un secondo. Non dimentica nulla di quello che abbiamo visto e niente di ciò che abbiamo sentito ed è per questo che è importante non mettere dentro nulla di sbagliato perché avrà sempre un impatto dentro di noi inconsciamente e consciamente. La prima cosa è che chiunque, tutti quanti, hanno il potenziale per essere un genio. La mente umana è molto più potente di un computer. Che cosa è in grado di fare il nostro cervello se nella realtà ponete la mente in qualcos'altro? È davvero scoraggiante quando iniziate a smettere di pensarci. E sapete, la nostra nazione proprio adesso ha qualche difficoltà intellettualmente perché le persone non pensano. Le persone non sono ben informate. I fondatori della nostra nazione hanno detto che il nostro sistema di governo può avere successo solo con una popolazione ben istruita. E hanno detto che una volta che la popolazione diventerà ignorante sarà facilmente condotta da politici corrotti ed il sistema del nostro governo fallirà. È una previsione veramente interessante. la televisione è una massiccia, una enorme massiva ipnotizzatrice di massa per le menti globali. E quello che succede è che instilla un credo nella realtà di minuto in minuto. Ed una volta che abbiamo assunto questo credo, lo abbiamo fissato. Quando l'informazione entra attraverso gli occhi, noi l'assembliamo sulle basi di questo credo. E così quello a cui è soggetta la popolazione mondiale o viene assoggettata a soffrire, in realtà è letteralmente una ipnosi di massa. E quando le persone, quando parliamo delle persone che in qualche modo iniziano a vedere qualcosa e vedono la manipolazione che non erano in grado di vedere prima, che diciamo di loro? Che cosa dicono loro stessi? Dicono, mi sono svegliato. È esattamente quello che hanno fatto. Quando le persone iniziano a dire posso vedere adesso? È come se qualcuno fosse insieme al loro ipnotizzatore e schiocasse le dita e oh, adesso riesco a vedere. L'ipnosi di massa. E questo è il più grande ipnotizzatore del pianeta. E queste sono le basi del perché è stato creato. Ogni giorno i nostri sensi sono costantemente bombardati da messaggi subliminali che si trovano nella tv, nei film e nelle pubblicità. I messaggi subliminali a cui siamo soggetti sono irriconoscibili dalla mente conscia, ma riconoscibili solo dalla nostra mente inconscia. I messaggi e le immagini sono assorbite passivamente e poi immagazzinate nel nostro subconscio, dove la propaganda impianta deliberatamente pensieri artificiali che a loro volta possono influenzare le nostre azioni e gli atteggiamenti più tardi nella vita. Gli esperimenti hanno mostrato che dopo meno di un minuto che uno spettatore ha iniziato a vedere la televisione, il cervello cambia dal livello di consapevolezza beta associato con i pensieri logici ed attivi a livello alfa, che è associato con accettazione passiva e suggestionabilità. Questo è il motivo per cui gli inserzionisti spendono miliardi di dollari all'anno nelle pubblicità insieme al posizionamento dei prodotti negli show televisivi. I messaggi politici vengono innestati nei programmi di fiction durante gli stati di relax meditativi, dove lo spettatore diventa ricettore della programmazione. La manipolazione. La manipolazione consapevole ed intelligente delle abitudini e delle opinioni organizzate, delle masse, è un elemento importante nella società democratica. Coloro che manipolano questo meccanismo invisibile della società costituiscono un governo invisibile, che è il vero potere dominante del nostro Paese. Siamo governati, le nostre menti sono modellate, i nostri gusti sono formati dalle nostre idee suggerite, in gran parte da uomini di cui non abbiamo mai sentito parlare. Questo è il risultato logico del modo in cui è organizzata la nostra società democratica. Quando si inizia a ricercare i messaggi subliminali nella pubblicità e sulla TV, quello che ti sconcerta non è quello che fanno e come lo fanno, ma la grandezza con cui lo fanno. Il nostro subconscio è colpito come un'esplosione di tutte queste cose, perché vedete questo è un altro punto interessante. Gli esperimenti hanno mostrato che in un secondo e mezzo prima che la mente conscia decida di muovere le braccia o qualsiasi altra cosa, tanto per parlare, un secondo e mezzo prima che il subconscio decida di fare questo, i segnali elettrici hanno già iniziato a farlo nel cervello. Per me il livello conscio è l'esperienza di osservare la realtà, ma il subconscio è la creazione di questo, il generatore di questo. Ecco perché gli illuminati vogliono la mente inconscia attraverso il subliminale. Cosa significa subliminale? Significa sotto la soglia, sotto la soglia la mente capta ma la mente subconscia raccoglie tutto quanto come una spugna, come impiantano questi pensieri dentro il subconscio che poi viene filtrato dentro il conscio e noi pensiamo di avere i nostri propri pensieri mentre in realtà sono inseminati ad un livello subliminale. Signore e signori, in questo messaggio userò i subliminali, una pubblicità subliminale. Una pubblicità subliminale. Ora voglio che questo rappresenti un tipo X di condizionamento nella vostra vita. Facciamo che rappresenti un tipo X di condizionamento. Lasciamo che questo rappresenti il tipo Y di un'idea. Ora osservate, osservate con i vostri occhi. Non vedete alcun cambiamento, vero? Avete visto qualche cambiamento? Non avete? No, non avete visto alcun cambiamento. Ma la vostra comprensione vi dice che non è così scuro come lo era prima che mettesi dentro dell'acqua limpida. O no? Vedete, quando imprimete una grande idea il vecchio condizionamento diventa più debole e se continuate a farlo continua ad indebolirsi. si indebolisce, diventa sempre più debole. Ma vedete, i vostri occhi vedono questo. Non riusciamo a vedere alcuna differenza. Ma ogni volta che guardiamo il video, ogni volta che accendiamo il televisore, ogni volta che vediamo il paragrafo sul tavolo, ogni volta che vediamo questa idea che viene spiegata, il vostro condizionamento diventa sempre più debole. Più debole e più debole. E se continuiamo ad imprimerlo, anche se sembra che tutto quanto all'esterno rimane lo stesso, i nostri occhi interni di comprensione ci dicono che non è lo stesso, ma che diventa più debole. Ora, voglio che pensiate. Voglio che pensiate. Anche se sperimentate dell'intontimento a causa delle vostre ansie, siete in grado di capire che cosa le causa. È il cambiamento che prende posto nella mente, che spinge per rinnovare questa mente. Ora, Trover, una volta ha detto che c'è qualcosa di così oppulento come la verità. Ha detto che se volete cercherete di vivere la vita che avete immaginato. Questa è la nuova idea. L'idea Y ha detto ogni persona che avanza con fiducia e deve farlo con fiducia, ecco che arriva la comprensione. Ogni persona può avanzare con fiducia nella direzione dei propri sogni, cercando di vivere la vita che ha immaginato. Incontreranno il successo inatteso nelle ore seguenti. Ora voglio che osserviate questo perché un giorno vi sveglierete e tutto quanto sarà cambiato. Proprio così. E la vostra vita non sarà più la stessa. È così che funziona. Si chiama risveglio. La gente ancora oggi pensa che tutto il divertimento che ha a fare con i film, con i drammi non sia altro che il loro divertimento, ma non sarà mai comunque il loro caso. Ovvio che il televisore può compiere dei miracoli come questo, tutt'ora. Ma forse non c'è alcun danno per lui quando si desidera che sia buono. La fonte più grande dei messaggi dei social media sono promossi attraverso i film, i drammi, i grandi drammi, col fissaggio delle sequenze emotive, le sequenze di emozioni, non le sequenze dei fatti logici, ma spingendo determinati punti attraverso delle onde emotive, delle emozioni che si registrano e si fissano nelle menti. Così il contenuto emozionale è veramente importante, anziché passare attraverso una reale discussione o un argomento che possa usare fatti logici. Non c'è alcuna discussione. Ed una volta che è stata scaricata da una fiction, la vostra guardia è abbattuta, la censura che fa parte del vostro cervello non è attiva e non sa dire sì sono d'accordo con questo o non sono d'accordo con quello, come dovrebbe essere in un dibattito o in una conferenza. In realtà siete in uno stato alfa dove scaricate completamente nuove idee. Circa cento anni fa questa grande organizzazione con molte branchie volevano comandare il mondo fondamentalmente usando la Britannia come nucleo di un sistema, un embrione che si è congiunto con gli USA sotto l'istituzione anglo-americana. Scrivendo il tipo di cultura e di cambiamenti di cultura durante il periodo di cento anni in realtà l'hanno progettato, implementato e fatto. Ne ha parlato anche H.G. Well, ha parlato di arene, dove le arene potevano essere disseminate nel mondo, per gli sport ad esempio. A quel tempo gli sport erano qualcosa che i bambini, i bambini erano dentro le scuole, gli adulti diventavano adulti facendo le cose per adulti. Era inimmaginabile a quel tempo credere che in realtà ci fosse bisogno dello sport per un adulto e dell'intrattenimento. Nessunamente aveva delle arene nel mondo, ma ci ha detto che potevano fare questo e sono state fatte le culture degli sport, in special modo per i maschi. Usando il sistema tribale sono tutti tribali in una certa misura, ecco perché ci preoccupiamo perfino di votare per un leader tribale, come ben inteso è il motivo per cui ci vengono forniti questi leader. E perché l'uomo medio è diventato più disimpegnato dal proprio destino, mentre sono cresciute le classi degli esperti. È stato deciso che i maschi abbiano il loro sbocco fondamentalmente, diventando gradualmente impotenti come maschi attraverso gli sport, dove hanno un team tribale con cui identificarsi, dove poter festeggiare quando corrono, ma sulla loro propria vita non hanno un posto, sono deprivati come esperti. E c'è chi prende le loro decisioni in tutti i campi. Questa psicologia è stata progettata ben prima di implementare gli sport. Quando è arrivata la radio, ovviamente, hanno usato questo sport massimo per gli uomini e le soap fondamentalmente per le donne. E poi è arrivata la televisione. Nello stesso modo, come ho detto, con lo stato alfa, uno stato ipnotico, e di sicuro attorno agli anni 60. In realtà dai 50 ai 60 è decollato, ed è collato veramente di maschi, sono stati inghiottiti al sabato sera negli spettacoli sportivi. Un'industria culturale che venne chiamata dai proprietari cultura industriale. L'Unione Sovietica aveva un reparto chiamato industria culturale. Gli attori di registriera hanno chiamato leader culturali. Leader perché potevano, come le persone ai computer, sono ai computer. Tutto quello che dovevano fare era fornire nuovi aggiornamenti, continuamente, così da poter cambiare una intera nazione. La nostra nazione è un blocco della nazione, con gli stessi aggiornamenti, gli stessi caricamenti, negli stessi momenti, dentro gli stessi percorsi. Oggi chiamiamo questo politicamente discriminante. Molte persone vogliono appartenere al proprio gruppo, alla pari, vogliono essere come tutti quanti gli altri, dove si parla di opinioni e fatti. Giudicano la loro sanità personale, rimbalzando le idee dai loro vicini, dagli amici, che risponderanno in accordo con gli argomenti dello stesso tipo. E non ha alcuna importanza se gli argomenti o i pensieri che fornite sono fatti, o cose senza senso. Finché sono tutti d'accordo nello stesso momento, dicendo che sono sani, e tutti gli amici vicini sono d'accordo, perché hanno tutti le stesse informazioni che gli vengono date. Sono stati programmati. E sono triste, perché è difficile per le persone così intraprendere un interesse, un serio interesse negli affari del mondo, nel prendere un serio interesse su quello che i loro eletti funzionali stanno facendo. E non sono veramente inclinati a studiare, o scoprire gli inganni che sono stati usati contro di loro. E sono triste, perché ho visto tutto questo in un lampo nella mia mente, come un'indicazione di com'è facile per le masse essere manipolate. Questo, alla fine, è che saranno incapaci di pensare o ragionare da soli. E alla fine si aspetteranno che i media pensino e ragionino per loro. Questo è quello che è successo finora. E questo è il motivo per cui la gente oggi non è in grado di pensare fuori dalla programmazione della televisione. Nel primo mese della mia amministrazione per trainare l'economia Oh, santo cielo! Scusate per questo, gente! Per trainare via l'economia già al limite, compreso il piano più grande della ripresa economica della nostra nazione, e dell'economia già al limite. Grazie per leMark oddio e sottotitoli